Eccoci, ben trovati, buonasera. Anche oggi giornata molto molto importante. Oggi abbiamo avuto la possibilità di vivere due realtà. La realtà fantastica dell'applicazione della legge e la realtà della parvenza di applicazione della legge. La credenza che la legge sia altro. Non posso ovviamente dirvi altro, posso soltanto limitarvi a dire che è bellissimo come sempre vivere i presidi perché c'è la possibilità di crescere tantissimo, cosa che purtroppo non possono fare i molti perché restano dietro una tastiera a saper soltanto giudicare ma si limitassero soltanto a questo, ma a fare i professori del nulla. E questa è la cosa più grave. Però la cosa importante è che siano all'interno di un recinto e quindi di un gruppo che se la canta, se la racconta, se la cuce, se la scuce, quindi si è capito già di chi sto parlando. La cosa bella, sapete qual è? È che ci credono veramente in quello che dicono. Io mi chiedo, basta non ascoltare perché perdere ulteriore tempo nell'ascolto vuol dire confermare che nella vita hai poco da fare. Ribadisco il concetto che quando a me una persona non piace, non condivido i suoi pensieri, addirittura credo che sia un folle o che addirittura credo che debba essere internato. Non mi ci applico a guardare che cosa fa e poi a ragionarci su cosa fa. Però se vi fa piacere, volete continuare perché non avete altre argomentazioni, perché l'unica argomentazione che vi fa raggiungere le 5.000 visualizzazioni e parlare di Valentina Fusco, va bene, fatelo pure, perché sapete, se altre argomentazioni, più di 2.000 visualizzazioni non ve le fanno fare perché voi avete bisogno di fare quello, va bene, fatelo pure, ad ognuno le sue volontà. In base a quello che abbiamo vissuto, alla bellissima giornata che abbiamo vissuto, io vorrei fare un riassunto sui concetti fondamentali, perché molte volte si dimentica quello che è la base della legge e si porta alla confusione dell'interpretazione della stessa. D'altronde ci hanno cresciuti in questa modalità e quindi si fa fatica a credere che la realtà sia diversa. Però siccome chi vuole può ripartire da zero e con la logica, razio e coscienza si rende conto che non è così strano ciò che sto dichiarando, e allora in virtù di questo io ho preparato uno schema in modo tale da attenermi ai concetti fondamentali e andare per ordine. Costituzione italiana. Chiaro a tutti, cosa contiene questa Costituzione italiana? diritti e doveri. Soprattutto dichiara, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, le pari dignità sociali e l'uguaglianza davanti alla legge, il diritto al lavoro. Dopo questo abbiamo l'eventuale Presidente della Repubblica. Dopo, cioè nel momento in cui l'uomo con i suoi diritti riconosce un'attività amministrativa governativa. Ma la Costituzione italiana, però, rivede in primis diritti e doveri. I diritti inviolabili dell'uomo vengono prima del Presidente della Repubblica e quindi del governo. Cioè, deve essere chiaro questo concetto. Diritti pubblici soggettivi. Cosa comprendono i diritti pubblici soggettivi? Quindi non si sta parlando di governo, si sta parlando dei principi fondamentali della Costituzione italiana. Diritti di libertà. Libertà personale. Libertà di riunione e associazione. Libertà di pensiero. Libertà professionale. Libertà patrimoniale. Queste libertà sono inalienabili. Queste libertà sono intoccabili. Queste libertà appartengono all'uomo. Soprattutto l'uomo che decide in autonomia e responsabilità di occuparsi della sua vita. E non lo chiede né al comune, né all'ospedale, né al dirigente scolastico, né all'avvocato, né al commercialista. Lui da solo mette in esercizio la sua libertà personale, la sua libertà di riunione e associazione, la sua libertà di pensiero, la sua libertà professionale e la sua libertà patrimoniale. La Costituzione deve garantire questi diritti pubblici. la libertà personale comprende il domicilio, la corrispondenza, il soggiorno, la circolazione e l'emigrazione. L'emigrazione vuol dire il mio diritto di poter spostare da un luogo a un altro la mia persona. E non devo farlo dietro il pagamento di un passaporto. perché il passaporto vuol dire comunicare ufficialmente alle autorità di polizia il mio spostamento da un luogo a un altro. La libertà di pensiero comprende la stampa, l'insegnamento e la religione. Ecco per quale motivo è diritto parentale l'istruzione del proprio figlio. è garantita la proprietà privata grazie alla libertà patrimoniale. E lo definisco io che cos'è il mio patrimonio. Il mio patrimonio può essere anche la mia macchina. Il patrimonio è ciò che io dichiaro tale. Non perché faccio una dichiarazione dei redditi e qualcun altro definisce cos'è il mio patrimonio. Lo dichiaro io. Nei diritti pubblici soggettivi stiamo parlando di diritti pubblici. Abbiamo anche i diritti pubblici soggettivi del soggetto. Abbiamo anche i diritti della personalità, i diritti politici, i diritti civici e sociali. All'interno dei diritti pubblici. All'interno dei diritti della personalità c'è il diritto alla cittadinanza e il diritto al nome. E' chiaro che la cittadinanza non è un obbligo ma è un diritto. E di conseguenza se io non voglio perla questa cittadinanza, ne sono in diritto di spogliarmene. Almeno fino alla conversione in legge dell'identità digitale. Poi non ce ne sarà più possibilità. Perché come grande coccarda già detto sarà ad onorem. Il diritto al nome. Sono io che decido come mi chiamo. Ed è il nome, non è il cognome. Il diritto al nome è il nome. È un diritto. Non si disquisisce. È la Costituzione che dichiara questo. E al momento è la legge. Tra i diritti pubblici, quindi diritti pubblici soggettivi, sono superiori ai diritti pubblici. Poi ci sono i diritti pubblici. Perché non sono più soggettivi? Perché appartengono a coloro che hanno deciso di essere rappresentati. E quindi governativamente. I diritti pubblici cosa comprendono? Fedeltà alla Repubblica. E mi sembra che la tenga più io la fedeltà alla Repubblica come soggetto autonomo che non coloro i quali, essendo all'interno di un governo, dovrebbero fare. I diritti pubblici contengono l'obbedienza alle leggi e alla Costituzione. Avete visto come cambia? Avete visto come si inverte? Gli addendi si invertono. Nel momento in cui si sta parlando di diritti pubblici e cioè di quelli che sono all'interno di una condizione amministrativa governativa, ecco che cambia la posizione. C'è prima le leggi che ovviamente vengono emanati governativamente e poi la Costituzione. la Costituzione diventa successiva. Ecco, coloro che sono all'interno di un'attività governativa e quindi sono rappresentati da un governo, sì che devono prima obbedire alle leggi e poi alla Costituzione, ma io appartengo ai diritti pubblici soggettivi, che piaccia o no a qualcuno. Nei diritti pubblici ritroviamo il dovere di voto, non è un diritto, è un dovere. E' nel momento in cui mi sono resa conto che dal 1960 non c'era più un'attività di voto costituzionale che io ho detto basta, non voto più. Nel momento in cui oggi io sono nella conoscenza che quel voto non è più costituzionale, io ho ricusato il Presidente della Repubblica. All'interno dei diritti pubblici abbiamo il servizio militare, quindi che piaccia o no a qualcuno nel momento in cui c'è la guerra e verranno a chiamare gli uomini se si è all'interno di un'attività governativa. All'interno dei diritti pubblici, ripeto, non soggettivi, ma della società. Amministrativamente governata. Abbiamo il pagamento dei tributi. Perché non lo abbiamo letto all'interno dei diritti pubblici soggettivi? Perché all'interno dei diritti pubblici soggettivi abbiamo l'obbligo a contribuire su quel territorio, non al pagamento dei tributi, che è una cosa diversa. La Costituzione dice che tutti siamo in diritto di contribuire nella propria modalità, che piaccia o no a qualcuno. Chiudiamo questo riassunto con quella che è la parte del governo, quella che piace tanto a chi tende a confondere la Costituzione col governo, il popolo col governo, lo Stato col governo. Io invece vorrei ancora una volta con questo riassunto che fosse chiara la separazione. Presidente della Repubblica, potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario. Vi ricordate? Alle medie ce lo insegnavano, ma non hanno mai messo in discussione quelli che erano i diritti soggettivi del cittadino. Lo chiarivano che l'attività governativa era una possibilità, non un obbligo. Potere legislativo, Parlamento, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica. Potere esecutivo, governo, Presidente del Consiglio dei Ministri e poi tutte le voci, gli interni, esteri, finanze, tesoro, bilancio, grazie a giustizia, difesa, pubblica istruzione, beni e culture ambientali, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, poste e telecomunicazioni, industria e commercio, lavoro, commercio con l'estero, marina mercantile, partecipazioni statali, sanità, turismo e spettacolo. E qui ci sarebbe da aprire un mondo, perché si dovrebbe dire che cosa è sparito, che cosa è stato inglobato, cosa è diventato chi. E poi abbiamo il potere giudiziario, il potere giudiziario dove c'è la magistratura con tutto quello che ne concerne, Corte Suprema di Cassazione, Corte d'Appello, Corte d'Assise, Tribunale Civile e Penale, Corte d'Assise d'Appello. L'autorità del territorio è l'autorità di polizia. Quindi, ancora una volta, io chiudo questo nostro incontro, questo nostro video, dicendo io voglio risposte. L'autorità di polizia, oggi, in questo momento, a chi sta rispondendo? Al governo o al cittadino? Due, siamo ancora in uno stato di diritto oppure siamo in uno stato di guerra? Con questo io vi saluto, vi auguro una buona serata, ci vediamo domani mattina, perché oggi è stata importante e ci meritiamo di stare un po' tra di noi e di coccolarci. Detto questo, questo detto, buonanotte!